Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi, buon venerdì a tutti, ciao, come sapete ragazzi Radio Tomodashi non parte più alle 21.45 come nel vecchio palinsesso, ma lo ricordo per i più senili parte alle 21 ogni settimana. Come sapete siamo in questa nuova fase, in questa seconda stagione di Radio Tomodashi dove parliamo di quotidianità, di persone che fanno magari content creator ma che si occupano delle persone più comuni, delle realtà che ci passano accanto tutti i giorni ma di cui non ci accorgiamo e di cui io sono un grande appassionato. Davanti a me c'è un ibrido meraviglioso, una chimera che va a toccare tanti i miei interessi, tante cose che amo della vita che di solito sono di appannaggio dei vecchi, ovvero la quotidianità, gli sconosciuti, i vecchi stessi e le sagre che come sapete ragazzi frequento molto spesso. L'ho scoperta girando sui reel di Instagram per caso e ho deciso subito di invitarla perché secondo me fa dei contenuti meravigliosi e ci può parlare appunto di questi argomenti che vi ho citato, anzi sono tanti argomenti condensati in un solo ospite quindi quando mi ricapita mai più. Chiara Pagliaccia, ciao Chiara. Grazie, ciao Dario. Ciao. Guarda te o guarda là? Guarda, guarda, come ti pare? Ciao a tutti. Sentiti libera. Molto bello essere qui su Twitch che per me appunto perché diciamo sono più interessata delle cose che riguardano i vecchi è un mondo totalmente sconosciuto. È un mondo sì fatto da giovani, da ventenni, anche belli incazzati, però loro sono molto bravi, se li sai prendere sono molto dolciotti. Bene dai, sono contenta di essere qua, grazie. Grazie a te ovviamente. Allora, perché mi sei subito piaciuta quando ti ho beccato su Instagram? Perché effettivamente quello che fai te è abbastanza unico, cioè te vai in giro per Zagre o addirittura sei andato anche al mercato una volta, se non erro, al mercato sai quelli classici di paese, becchi degli sconosciuti e gli fai delle domande, domande che possono sembrare delle domande normali ma che spesso rivelano in realtà una sottile ironia di fondo che ti contraddistingue, che poi ti ha portato secondo me a esplodere facendo anche la stand up, ma di questo parleremo dopo. E loro rispondono in maniera spesso stramba, no? Comunque fuori dal contesto, con una comicità che ricorda quella di Frassica, no? Con delle risposte che a volte non c'entrano una sega ma che c'entrano totalmente. Ecco, io devo capire chi sei, cioè come sei arrivata a prendere un microfono e intervistare queste persone in giro e a raccogliere queste testimonianze di vita preziosissime per me? Allora, innanzitutto io faccio l'autrice di lavoro, ho la partita IVA purtroppo e quindi diciamo che per lavoro scrivo sia per la tv sia per le agenzie, adesso mi occupo anche di podcast, no? Degli altri e quindi ho sempre lavorato anche a fare interviste sempre per gli altri e è arrivato un momento in cui ho detto vabbè ma perché non faccio una roba mia? Perché gli anziani? Allora io sono molto attratta dagli anziani, non sessualmente per ora, Ma per ora? Vabbè perché dovrei diventare anziana anche te prima o poi Esatto, poi succederà, no? Sì, sì, a tutti credo Perché la menopausa non sarà un limite, è un tema di cui si parla molto ultimamente, quindi Però mi affascinano molto gli anziani, ok? Cosa che non posso dire per i bambini, cioè io provo tantissima empatia per gli anziani, per i bambini no, per esempio Ok E trovo che ci abbiano molto da raccontare, no? Adesso viviamo in un mondo in cui tutti possono dire la propria opinione, ma molto spesso ascoltiamo sempre le stesse voci, no? Che sono quelle degli influencer che si autoleggono come capi di un determinato argomento, io volevo sentire delle voci che solitamente non vengono ascoltate, no? E secondo me l'anziano incontrato per caso alla Sagra della Porchetta o la tipa che vende la frutta al mercato a me interessa molto di più che sentire magari delle opinioni che molto spesso sono preconfezionate, no? E guidate anche da intenti commerciali, ecco, io trovo queste opinioni molto più genuine e oneste e quindi mi rilasso quando parlo con loro Ok, e io devo capire come sei, questa roba delle interviste è molto interessante, cioè che te da autrice sei passata a intervistare te perché vedevi quello lì che te vi stavo, no? Magari la dovevi dire così, io l'avrei detto in un'altra maniera, capisco, insomma hai raccontato il tuo lavoro di autrice anche prima, ne abbiamo parlato Hai mai preso qualcosa che hai trovato intervistando questi anziani, queste persone comuni poi nel tuo lavoro d'autrice? Cioè ti ha aiutato questo lavoro del web a poi svolgere ancora meglio il tuo lavoro di autrice? Sì, cioè diciamo di sì, non ho capito la domanda Cioè le esperienze che hai raccolto su Instagram, su TikTok, poi effettivamente lei messa il tuo lavoro di autrice, cioè ti è servita questa esperienza in qualche maniera oppure il contrario? È un po' il contrario diciamo, cioè col mio lavoro ho imparato a girare dei video, montare dei video o cioè io quando faccio un'intervista so già quello che funzionerà Ok Ok, so già quale sarà la parte che se metto farà un botto di views e quella che non farà views Però c'è più che altro queste cose che mi servono a rilassarmi È proprio un momento in cui, poi io vivo a Milano che è la città appunto della settimana della moda Delle persone che vivono per il lavoro, quindi parlare con della gente normale, rilassata mi fa stare bene, è un po' una terapia per me Ah è terapeutico quindi anche per te, per tanti il lavoro del web è terapeutico Sì, è uno sfogo, è quasi un rifiuto verso quello che faccio magari dove molto spesso c'è di mezzo il brand, no? E è tutto scritto, tutto costruito, vado lì e faccio le mie stronzate e vai come sono contenta Ma te hai delle zone di caccia a Milano, cioè quali sono le zone più belle da battere su Milano per cercare di trovare le persone migliori da intervistare? Allora, diciamo che vado alle sagre l'estate prevalentemente o manifestazioni un po' strane, se vuoi poi ne parliamo Sono stata anche alle Olimpiadi dei Carlini, dopo te lo racconto che cos'è A Livorno mi hai detto, no? A Livorno, sì Però durante l'inverno, perché come ti ho detto prima io faccio anche tanti altri lavori Devo fare, devo ottimizzare, no? Quindi vado un giorno al mercato e funziona un po' come la pesca Cioè nel senso che a volte butti la rete e non tiri sul niente Altre volte invece, perché comunque dipende sempre dalle persone che incontro E quindi ci sono delle giornate più fortunate dove vado magari al mercato di Porta Venezia Oppure ce n'è un altro molto bello ad Assago che è più sull'antiquariato E mi metto in dei punti strategici dove loro, diciamo, dopo che hanno fatto shopping Vanno verso casa e quindi ne incrocio il più possibile Tra l'altro dico sempre a sto mio amico che mi fa i video Sembra che ci sto provando con il signore, con l'anziano Perché io proprio li guardo negli occhi applicando la teoria di Lombroso Per cercare di capire se potranno essere delle conversazioni interessanti o meno E ormai sono diventata bravissima Sì, eh? E da cosa si capisce? Ce la fai a spiegarmelo? No, perché spesso mi scrivono sui video Ma come fai a beccarli? Eh, ci sarà una tecnica Io li vedo come se avessero una scintilla dentro gli occhi Il quid Sì, e soprattutto dal viso Adesso sembrano una pazza Però, diciamo, quelli che hanno il viso che va verso il basso Ma cos'è la frenologia? C'è una roba... Il viso verso il basso È una neoscienza che stiamo inventando Sì, quelli ingrugniti nemmeno glielo chiedo Che so già che mi manderanno quel paese Vabbè, quello è chiaro, sì Mentre quelli un po' più paffutelli, no? Che li vedi tutti... Che sono presi bene, no? E quelli li fermo Oppure ci sono proprio quelli che Chiacchierano già con tutti in giro E dici, ah, questo c'ha voglia di chiacchierare E infatti Di solito chiacchierano anche con me quelli Però prendo anche tanti vaffanculo, eh Ecco, infatti ti volevo chiedere Ci saranno delle persone però ostili, no? Eh, a voglia Cos'è che gli dà più fastidio? Il microfono, la telecamera puntata Oppure c'è altro? Allora... Sembra che mi sta a parlare con un fotografo della BBC Che va nella foresta amazzonia a cercare i lemuri Non so se ci sono lemuri nella foresta amazzonia Comunque, insomma, stiamo parlando di animali È sempre una caccia comunque Sì, sì, certo, certo Allora, diciamo che io ho un approccio secondo me etico Nel senso che io non punto mai la telecamera in faccia a nessuno Vado sempre io col microfono abbassato Dico salve signora, mi presento Vuoi fare questa intervista? E poi gli do un foglietto con i miei contatti Può vedere il video qua E se mi dicono sì, ok Gli faccio dire una liberatoria immagine proprio in video Tipo accetto di fare questa coppia Esatto, di fare questa cosa Io comunque li lascio ai miei recapiti E praticamente niente Questi dicono quello che devono dire Ma io non piloto mai le domande, capito? Ok Infatti c'è un modo che secondo me la domanda più efficace è come stai Perché semplicemente da questo come stai A volte ti si apre un mondo Perché c'è una signora simpaticissima che ho beccato Che mi ha detto Eh ma che devo dire? Mi sono operata al ginocchio Mi hanno licenziato Eh che cazzo devo dire? Beh insomma di roba ce n'è da dire secondo me Però Cioè Quindi C'è sempre un approccio etico ecco diciamo E Quando però C'è qualcuno che magari ci avrà una brutta giornata Mi avvicino e dico Signore vuoi fare un'intervista? Ma vaffanculo Tu e i giornalisti Ah proprio così? Sì sì Che poi manco sono giornalista tra l'altro Quindi non hai comunque l'argomento Oppure c'erai ogni tanto? Quali sono gli argomenti forti che tratti sui tuoi social? Se non va curioso Dipende un po' dall'attualità Ok Però per esempio quando avevano trovato le mummie aliene Ho chiesto delle mummie aliene È interessante Adesso arriverà Sanremo E Sanremo Dico grazie Comunque anche se ti fa schifo A me non è che piaccia poi così tanto Però è un argomento che seguono più o meno tutti Quindi è un video di attualità E anche gli anziani del mercato lo seguono E adoro che l'anno scorso erano tutti indignatissimi Dal comportamento di Blanco Ah giusto sì Perché sì è il trigger dei vecchi Quella roba di essere Sì però Cioè è stato divertente Dimmi dimmi Mi si è persa la domanda No no È risposta È finita È finita No ti volevo chiedere Che cosa hanno detto delle mummie aliene Perché Blanco lo capiscono È diretta Però le mummie aliene Non è che sia andata così virale la notizia Sì è andata Tra gli psicopatici Tipo noi Sì 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 Che ci credevano ovviamente Poi erano tipo delle merde Di carta pezzo Io sono rimasta delusissima Volevi che fossero Ho sperato fino all'ultimo Ma quando esce una notizia sugli alieni Ci speri sempre un po' Anche se sei il super scettico Un pochino il pensiero ti ci va Però poi tutto viene riportato alla normalità Eh sì Però no Ho chiesto Sa signora Sono state ritrovate queste mummie aliene E fa Eh sì sì Ho sentito E ho detto Signora Lei cosa direbbe Agli alieni Se fossero Se veramente Esistessero Che se ne andassero A fanculo Mi ha detto E io Ok signora Grazie Arrivederci Poi c'è la risposta più interessante C'è qualcuno che ha cercato di No 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 Però vedi C'è sempre questo fattore di imprevedibilità No Cioè la signora Che manda a fanculo Le mummie aliene Per me è un genio Oppure un'altra domanda A parte il come stai È qual è il motto della sua vita E lì proprio Capisci che ognuno Capisci molto anche Della storia di quella persona Che te lo sta raccontando Ecco Beh io Vedendo i tuoi video Ho notato che si ride parecchio Perché comunque le risposte appunto Sono imprevedibili E forse è quell'imprevedibilità Che Poi scaturisce il sorriso La risata Però ci sono stati dei momenti Anche commoventi Cioè roba che ti ha colpito Ti ha un po' Nascosso nel profondo Magari delle risposte Che non ti aspettavi Così Toccanti Allora Sì Ci sono state Delle persone Che ho intervistato Che erano Magari Erano tristi E quelle cose Posso raccontare Però Per esempio Per esempio i commenti Fa schifo Storie di vita Fa ridere Naturalmente tanti Però Belli Sono di parte Sono di parte E no Ci sa Fanno sorridere Appunto Perché non metto Delle cose Che mettono ansia No Cioè siamo bombardati Da notizie Deprimenti Vorrei che almeno fosse Una pagina spensierata Ma c'è qualcuno Che comunque Arrabbiato Ma arrabbiato di cosa Poi non si sa Ma comunque Vabbè Non te lo compri Carlino e basta E poi Si parlava delle sagre Perché Io effettivamente Sono un grande frequentatore Delle sagre Mi piace proprio stare lì Infatti vengo Sempre guardata Abbastanza male Perché Io vado con i miei amici E si va dai 20 ai 30 anni E siamo sempre Il tavolino centrale Con tutti i vecchi Che ci guardano Da tutti i lati Perché siamo strani Siamo un po' atipici Anche quando andiamo a ballare Tra l'altro hanno una sincronia Perfetta Nel ballo E te invece fai il coglione Quali sono Le cose che affascinano Invece te Delle sagre Cioè perché ti piace Vivere le sagre così In prima linea Addirittura filmandole Documentandole Stupendo Cioè le sagre Sono bellissime Secondo me Mi emoziono Quando parlo delle sagre Scusa No no Fai pure Sono bellissime Perché La vita È una vita vera Cioè senza sovrastrutture Gente che va lì Mangia Beve Sta insieme Un'allegria Sono tutti pensionati Quindi tranquilli La roba costa poco Tendenzialmente A meno che non siano Sagre e Lombardia Mi piace tanto Proprio l'atmosfera Che c'è Anche Cioè Se andate nella pista Da ballo Dove dopo cena Mettono il liscio E vedi come si guardano Anche queste coppie O le attenzioni Che hanno l'una Con l'altra L'una con l'altro Perché ancora Non esistono coppie Di LGBT Di anziani Non ne hai mai trovato una? No Ma no A me è capitato una volta Figurati stiamo a Monte San Savino Ma non è che così Cioè io non ho vista una Ma non mi ricordo Sempre una sagra Erano due anzianotti Che si tenevano per mano Erano due uomini Sì 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 Che bello Dario Non li hai intervistati No Non mi viene da intervistare Ogni tanto faccio due chiacchiere Sì Però Da qui a filmare Mi sentirei un po' in difficoltà Perché io Non so Approcciarmi molto bene Invece Vedi te lo sai fare Io non arriverei Con la telecamera abbassata Il microfono abbassata Liberatore Io andrei a trattore Non si può fare Eh no Anche se tutti lo fanno Soprattutto su TikTok Comunque Comunque No È figo Anche Come mi trattano Cioè Io li tratto con rispetto Loro mi trattano con rispetto Beh beh Dovebbe essere la base Però dici Non succede Non è Hai davanti a te Una persona traumatizzata Dario Però Ogni volta Che vado lì Mi trattano da Dio Cioè Molto spesso Mi danno i piatti gratis Mi regalano le cose Sono felicissimi Che io faccia le riprese Dicono Grazie che fai conoscere La nostra sagra Mi hanno dato anche Delle magliette Dove c'è Sono andata Alla sagra Dello Scorzone Bello Bello Che è il tartufo Quello grezzo Quello nero Sì Certo Quello estivo Si dice a volte Tartufo estivo Sì In Umbria E c'è la regione Noi abbiamo risposto Ci piace l'odore Delle case Dei vecchi E quindi eravamo Destinati alla sensibilità Quindi non è che magari Noi siamo vecchi dentro Cioè ci affascinano Le cose da vecchi Perché un po' vecchi Lo siamo Te ti senti così? Io sì Io sono nata vecchia Cioè Sarà che mi hanno Educato due anziani A me Quindi c'ho proprio Quella Formamenti Vedi 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 Però E la mia psicologa Dice sempre Basta di vivere nel passato Tu devi vivere nel presente Io no Lasciatemi qui Dico spesso anche a mia moglie Perché lei è attaccata Invece agli anni 2000 Quando era ragazzina Lei Ah gli anni 2000 Come sono stati No era una merda Cioè gli emoco Le creste Ossì erano una roba Trebanda Netlog No Infatti io gli anni 90 Deve andare dieci anni prima No E poi ancora peggio Forse No gli anni 90 Treman è Berlusconi Che arriva al potere E poi Top No Scherzo Diciamo dal punto di vista Dei meme Ecco fa ridere Fa ridere Berlusconi fa ridere Come meme dico Sì come meme No come meme Forse te la possa Tagliamo l'argomento Dai Fai tutto te Va bene va bene E Niente ecco mi ha fatto Sfuggire la domanda Siamo Siamo nati vecchi Si sono d'accordo E mi rifugio Perché è un È un mondo in cui sto bene Io alle sagre sto bene Mi rilasso Se mi porti a un evento Della fashion week E mi impazzisco Ma è steady Ma è nemmeno morto Io Lo sai che questa roba Del Sei stata cresciuta Anziani Io invece avevo Come ti raccontavo Lo zio coltivatore diretto E quindi mi portava Sempre alle sagre Io da bambino Sono sempre stato abituato A interagire con anziani E con le sagre Forse è per quello O forse Boh Lo so Cerchiamo un attimo Di evadere la contemporaneità Che ci fa un po' paura A me ogni tanto Mi fa un po' paura Il presente O no Beh Beh sì Adesso È abbastanza Tragica Poi Anche tu lavori Sui social Io lavoro sui social Quindi purtroppo Devo vederli Sono molto utili Per alcune cose Perché adesso Anche si riesce A fare informazioni In maniera diversa Però vieni bombardato Da cose che Non ti fa Proprio bene Vedere O sentire O notizie Di cui non te ne frega niente Non me ne frega niente Che quelli si sono lasciati Non me ne frega niente Che quelli ha comprato La casa Non me ne Cioè Sono troppe notizie Che secondo me Non riusciamo nemmeno A processare No Boh Fino a vent'anni fa Manco esistevano Capito E quindi vai su questo pubblico Invece calmo Rilassato Perché lento Per via dell'età Forse magari anche per quello Sì ma io vado anche Al circolo Alle bocciofile Che meraviglia A Milano Quando voglio rilassarmi Vado È inquietante Conoscerti comunque Ma mi sta facendo Un po' di inquietudine Cioè A te affascina per esempio Il pavimento dei circoli Quello tutto granulato Quello tutto a macchioline Che Il battiscopalto Di legno Sì sì Vedi c'è qualcosa Che proprio non funziona C'è qualcosa di rotto in noi Una droga che non fa male Una droga che non fa male Ecco L'abbiamo trovata Però nei tuoi video Li vedo sempre spavaldi No? Cioè sono sempre molto sicuri Sembra che non abbiano paura di niente Noi invece noi siamo A quanto pare anche da questa intervista Noi siamo spaventatissimi Soprattutto te ti noto Molto spaventata Mi hai detto Molto ansiosa E eccetera Loro Intervistandoli Hai notato di che cosa hanno paura? A parte ovviamente Penso la morte Però No invece non hanno paura Nemmeno di quello? No no Ho fatto anche dei video Che mi hanno detto Ma sì ormai è arrivata la mia ora Tanto la mia vita l'ho fatta No no proprio Sono sinceri secondo te? Sì Di brutto Ma mega cinici Anche quando lo dicono Infatti Questo video l'ho fatto L'anno scorso Ma era andato molto bene Perché lui parla della morte Con una tranquillità Che Di che hanno paura? Molte intervisto che scarto Sono Su Sulle notizie brutte Che leggiamo ogni giorno Cioè Vabbè I politici Vabbè chiaro Alcuni le tengo Altre le scarto Perché sono le solite cose Che si dicono Tutti ladri Tutti ladri Che però Ho già fatto dei video Su quello Sarebbe sempre lo stesso video In eterno E Sono molto arrabbiati Per le pensioni Che a volte Sono molto basse Ok Certo Ci campano Eh sono molto basse E sì E quindi danno Dei ladri ai politici Per le pensioni basse Che Che noi neanche avremo Quindi No No Ecco E' un altro momento Di spegnimento Che si aggiunge agli altri E di paranoia Però vedi Sono molto Ci sarebbe molto Da imparare Per quello Io ti volevo Intervistare Perché secondo me Molti ragazzi Che seguono TikTok O Instagram È bello Che ascoltino Anche dei vecchi Oltre alle curiosità Oltre alle cagate E spesso ci si perde No Nei meandri TikTok Con contenuti un po' così E te sei una sorta Di gemma rara Da preservare Secondo me E te invece Cosa ne pensi Della tua piattaforma Anzi Delle tue piattaforme Dove ti esponi Che prima hai lanciato La frecciatina No Che cosa ne pensi Dei reel Di questi contenuti Molto rapidi Perché anche te Ne fai parte No Allora A me dispiace Che adesso Vadano solo i video rapidi Perché chiaramente Mi piace Se l'algoritmo Premiasse anche Di video Da cinque minuti Sarebbe molto più Narrativamente Interessante Secondo me Adesso Come se uno vedesse Un flash Però funziona così Con Instagram Mi trovo molto bene E Come ti dicevo prima Il fatto che io Non abbia fatto Dei contenuti Faziosi O che Incitano all'odio Io ho una fanbase Che fondamentalmente Mi vuole bene Cioè siamo Anche io Gliene voglio a loro Cioè sono contenta Scrivono delle cose Che mi fanno ridere Tutto quanto Su TikTok Su TikTok Sono un po' scettica Su TikTok Perché a parte Che mi rubano Dei video Cioè tipo Li scaricano E li ricaricano Come se fossero loro E molto spesso Vanno virale Il loro video E il mio no È un po' Una terra di nessuno Sì È una terra di nessuno E Sono gli utenti Molto più giovani A volte è successo Che mi andassero I video Nella parte sbagliata Di TikTok E So che c'è Questa roba Cioè se l'algoritmo Ti porta da una parte Trovi tutti i haters Che ti massacrano Oppure può andare D'altra parte Che può andarti bene Non mi ricordo Che video era Ma mi era andata Nella parte Dei nostalgici Del fascismo Ma non puoi capire Anche lì E che video avevano beccato C'erano dei commenti Che gli ha fatto Oppure no Fascismo e basta Così senza contesto C'era una signora Che diceva Ce l'aveva con i comunisti E io le dicevo Che ero di sinistra E lei mi mandava A fanculo Faceva ridere Secondo me Sì sì E sotto Comunista di merda Lesbica di merda Cessa schifosa Vaffanculo C'è ragione la signora Viva Ti prendi male Quando leggi ste cose Capito Perché poi non è Che fanno parte Della mia vita Della mia quotidianità Immagino E penso sempre Ma da dove escono questi Dove vivono Esistono Esistono E su tiktok A volte Sono tanti Tutti insieme E mi è capitato Anche a me Di recentissimo Parlato di Di come per me Si è sbagliato Alzare le mani In qualsiasi contesto E situazione Perché io sono Super pacifista Convinto È la mia opinione È il mio modo di essere E mi è capitato Di leggere I commenti Di tiktok Di quella parte Che hanno ritagliato E buttato lì Non c'era nemmeno Il contesto La spiegazione Semplicemente io dicevo Non si deve mai Alzare le mani Perché se no Sei una scimmia Una roba del genere E non hai idea Di quanta gente Non vede l'ora In realtà Di ritrovarsi In quelle situazioni Per poter menare le mani E di quanti insulti Mi sono preso Perché io Non voglio Non voglio Picchiarmi Semplicemente Mi sembra assurdo Cioè tu hai detto Una cosa Che dovrebbe essere Un punto di partenza Per loro non è concepibile E ti hanno insultato Perché tu hai detto Viva la non violenza Sì perché Eh ma Quando uno Ti rompe il cazzo A un certo punto Poi gliele devi dare Una pizza gliela dai E poi vanno sempre Sull'esempio estremo Per avere ragione Quindi eh voglio vedere Se ti toccano La moglie O ti iniziano A stuprare la moglie Se Ecco ma ho capito Ma Perché bisogna andare Sempre nel caso Più estremo Perché così Almeno avvalorano La loro tesi Con un caso Estremissimo E tu come ci stai? No io ormai Ti sei abituato? Sì sì Però all'inizio no All'inizio era tremendo Ma anche solo L'anno scorso Quest'anno Cioè quest'anno Il mio 2023 È servito a quello È servito a Vabbè ragazzi Fate come vi pare Io inizio a vederli Come dei numeri Sono dei numeri Persone che non incontrerai Mai nella tua vita Perché Per fortuna Ti sei scelta Il tuo Il tuo gruppo di amici Che sono delle persone Stupende Eccetera Eh sì E quindi questi Sono dei numeri Quindi non è Come se non esistessero In fondo Per me Eh però Se ti soffermi a pensare Che in realtà Esistono Fa veramente paura È proprio distopica La cosa Poi dobbiamo andare Due mesi alle sagre Tutte le sere Per ripigliarci Buttalo via Eh no Magari Eh ci mancherebbe Quali sono Le tipologie di sagre Preferite Da Chiara Pagliaccia C'è quella Quella sagra Proprio imperdibile Che vuoi consigliare Ah tra l'altro Ce n'è una meravigliosa Solo per il nome Non ci sono ancora stato La sagra Il peperone quadrato Esiste Esiste Ma dove La sagra Che è un peperone Che fanno crescere In queste casse E quindi si Quadratizzano No dai ma perché Adesso scopriranno Che anche i peperoni Come i polpi Hanno i centri nervosi E quindi stanno Maltrattando dei peperoni Dei peperoni Però Facciamo una collaborazione Io e te Che si intervista Vecchia La sagra Il peperone quadrato Quando vuoi Quella è bella Quando vuoi E ti aiuto Ti dico Vai Dario Adesso ci puoi parlare No non me la sento Vai Dario Mi fai Da apri pista Per questa roba Però quali sono Le tue preferite Quelle dove trovi I vecchi migliori Madonna Così stanno veramente Il banco del pesce Vabbè comunque No allora Ne esistono tantissime Infatti Più di una casa editrice In realtà Vanno detto Dovresti scrivere un libro Ragazzi ma avete idea Di quante sagre esistono Quante ne girate Eh ne avrò fatte Boh una cinquantina Che non sono poche Eh Ma non ho fatto Di tutti i video Perché Cioè non è che vivo Con la telecamera Alcune te le volevi godere Me le volevo godere Me le volevo Tipo Adoro le gruppi Le cover band Tipo dei nomadi Di Vasco Rossi Ecco Quella è l'unica cosa Che secondo me Non va bene Delle sagre Ma perché A me piacciono Le orchestre Con i nomi strambi Tipo Allora Ce n'è una Che io non so Come faccia Io penso che Siano in realtà Una crew gigante Di 30 persone E si dividano Si chiama Orchestra Il giaguaro No La riconosci Perché come Locandina Hanno da 40 anni Un giaguaro Incazzato Come un mostro Nella locandina E basta Te non sai Quanti componenti Sono E poi Sembra aggressivissima La cosa Ma fanno i lisci Quindi non è che L'orchestra Il giaguaro Ti aspetti Una roba Punk rock Zero E sono dappertutto Però le cover band No Le gabù è finto E mi cringe Un po' Nino No A te piace Dovresti ripensarci Comunque Diciamo che Ne esistono tantissime Posso citarvi un po' Di quelle A cui sono stata Visto che Visto che Su Twitch C'è prevalentemente Un pubblico Maschile Giusto Sì È vero La Sagra della Fica Che ho visto L'ho visto il video Tuo Esatto Che è in Salento E diciamo Fica Sì 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 Una fettina Il raduno Il raduno dei Carlini Perché io riesco In quei momenti A uscire dal mio corpo E Mettermi solo In posizione di ascolto Quindi sentivo Le loro teorie Strampalate Tipo che gay Andranno all'inferno Se Oppure La signora Che diceva Contro l'aborto Che anche Dopo un secondo Che fai sesso Quella evitano E sono tutti I punti di vista Che non condivido Però Volevo sentirli Con le mie orecchie Però questo è molto Giornalistico Te ne rendi Conto Cioè il fatto Che te Ti dissoci Momentanamente Per raccogliere Il parere Da giornalista totale Te un pochino Lo sei Sì mi manca Il tesserino Eh devi fare il tesserino Secondo me Te lo danno Tranquillamente Devi fare un esame Anche semplice Ma che cosa Mi serve il tesserino Per farmi odiare Ancora di più Ah dici Perché la categoria È vera Non è ben vista Odiatissima Però un giornalista Di costume Non è odiato Come il giornalista Politico Tipo Adesso mi informo Vediamo Te sei Saresti una giornalista Di costume Sì Visto come erai due costume In società Ci sei te Che vai dagli anziani Che poi lo fanno Mezzo in mezzo Immaginato io Che vado dagli anziani In costume Ah ecco sì Buffi stupidi Costumi locali Come diceva Guzzanti Sì E te con Gli zoccoli di legno Grembiule La parannanza Grazie per il nuovo format Che proverò in estate Dario Lo sai Tipo La fanelli Quando fa Bella Roma mia C'è quella roba lì Guarda che può funzionare Un sacco Spacchiamo Spacchiamo con questi Nuovi format Così costume società Ragazzi È la trasmissione Tra l'altro se avete Già domande a preparare Ragazzi sapete che Gli leggo volentieri E invece ci sono Dei macro temi Che non hai ancora Affrontato Perché magari Ti intimoriscono un po' A me non sembra Per esempio O forse ogni tanto La spari Qualche domanda Su questo Però Il macro argomento Sesso L'hai affrontato Mai con loro L'argomento Sesso L'ho affrontato Quando il signore Con la macchinetta Quello è un altro tipo Quella è molestia Che è un'altra cosa Però tipo Le loro Però era una domanda Perché secondo lei I giovani Non fanno più sesso Come E lui mi ha risposto Quella roba Infatti da lì Ho smesso di farla Ah quindi ti ha un po' Traumatizzato Beh si Vedi tu Ok però Magari vedi una simpatica signora Dici Però Ancora oggi Racconto delle cose Sai che non l'ho fatto Perché Come ti dicevo prima È un argomento Un po' spinoso Cioè A volte ho paura Quasi delle risposte Che possono darmi Tanto Cioè Io non Non pubblico Delle cose Troppo Sai le pagine di trash Sì Non mi piacciono Ok Cioè Non voglio Quella signora Eh Allora Scopare Capito No Ma non così Non è che puoi andare A dar vecchio Infatti Oh signora Ma lei Tromba Corpischio No Sai Ora mi hai fatto venire In mente Mentre parlavamo Forse dalla voce Perché gli assomiglia Enrico Lucci Eh sì Fece una sorta Un documentario Di servizio Sul sesso Tra anziani E lo affrontare In maniera super romantica Molto in punta di piedi Secondo me c'è il modo Con la tua ironia Eh ora voglio farti Anche una domanda Su questo Perché te È un tipo di ironia Molto sottile Molto inglese Passami il termine No E ci sono delle persone Che effettivamente Ti hanno influenzato In questo Cioè c'è Un Dei comici Di riferimento Che dice Eh cazzo Però questo video Mi ricorda un po' Quel tipo di ironia lì Lucci Ah quindi C'hai preso Sì sì Lucci Quando Lo Vedevo sulle iene Che io c'avevo dieci anni Eh sì Era tipo il mio Il mio faro Nella notte Ma io sono Cresciuta Anche guardando Anche se non capivo Niente degli sketch Guardavo sempre Mai dire gol Dove c'erano Dei mostri sacri De Luigi La Cortellesi Che per me De assoluta Cioè lei E Virginia Raffaele Per me in Italia Sono d'accordissimo Cioè E la Cortellesi È arrivata a fare un film Adesso che comunque Ha fatto tutta una carriera Eh Sono troppo felice Insomma che stia avendo Tutto questo successo E Sì Perché noi la vedevamo In tempi non sospetti Capito Cioè lei che fascia L'imitazione dei personaggi Il grande fratello E ora guarda Dove è arrivata No Sì Un po' Ti senti Non partecipi Della cosa Però La senti Su di te Perché a me fa C'era morire Da Rita Cortellesi Invevo l'ora Che apparisse In televisione Sì anche io E soprattutto Lei è una Che veramente Si è fatta un culo Così Che la gavetta Se l'hai fatta Tutta Perché magari Il film Te lo poteva fare Anche vent'anni fa Però Se l'hai proprio Straguadagnata L'opportunità Quindi sì Ti direi Comunque Tutte le reference Sono sempre Degli anni 92 mila Quindi Che poi ci sono ancora Quindi va bene Così Magari De Luigi Non fa più Quello che faceva Un tempo Però Vabbè Sempre A me ride Anche solo La faccia Di De Luigi Ormai Sì sì Dico Quel De Luigi Lì Adesso Non lo seguo Più No Perché non fa Più sketch Qualcosina Fa In qualche Trasmissione Ogni tanto Però fa più Che altro L'attore Cioè Nei film Sì Perché se Avesse ancora Il VHS E mi riguardasse Ancora le cassette Registrate Sarei patologica Probabilmente Chi era il tuo Preferito Di De Luigi Olmo Olmo A me piaceva Guastardo Te lo ricordi Quello Che faceva La Tauromachia Era quel cacciatore Folle Nobile Sì Anche Lucarelli Era bello Mamma mia Fortissimo Sì 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 Poi anche Era qualche anno dopo Che hanno iniziato C'era già Lucia Ocone Come copica Sì che anche lei A me fa straride Bravissima anche a me Che faceva La Katia Con la del Grande Fatale Con le puppe infinite Sempre più grossa Ogni puntata Bellissimo Sì la Gialappas Diciamo che mi ha un po' Cresciuta Eh sì E hanno scoperto Poi un sacco Una miniera d'orio Continua Erano bravissime Erano dei talent scout Fuori Fuori di testa Sì Beh invece vedi Mi aspettavo più comiche Internazionali Invece tutte influenze italiane Anni 90 Prettamente anni 90 Sì Comiche internazionali Solo adesso Cioè Seguo più comiche In realtà Perché Adesso che ho iniziato Anche a fare Stand up Da tipo sei mesi A quello volevo arrivare Mi rendo proprio conto Che non esistono Tante comiche Donna Soprattutto in Italia No Cioè È innegabile Sta cosa È un dato di fatto Una questione Di numeri E anche su Instagram Infatti il commento Ma su tutti i social Anche adesso Qualcuno starà scrivendo Le donne Non fanno ridere No no giuro Non è successo Per ora Però proprio per questo Cioè io seguo Soprattutto comiche Straniere Sì Michelle Wolf È la mia preferita C'è anche uno speciale Su Netflix Cioè Lei è un genio Letale Sì Ma poi Gira intorno a un punto Per 40 minuti Cioè arriva solo in fondo E te per 40 minuti Hai riso È un genio Poi ha una voce Fastidiosissima Vero Acutissima Che non sentirei mai Perché io sono Fobica dei rumori Sì 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 Ma lei non riesce Non ascoltarla Sono d'accordo Anche a me Danno fastidio Certi rumori Vabbè Non so Dove sei nata Di preciso E in che anni Tu che segno sei No questo no Il segno non me l'ha collo Ti ho aperto su Perugia 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 Ma io ne manco credo Nei segni Però so che si dice così In certi casi Io sono della Vergine Ah Io del Capricorno Boh Non so nemmeno Che caratteristiche abbia Nel Pokédex Dei segni Queste cazzate Non so come continuare Questa conversazione Sì Nemmeno Ci sono gli ascendenti Queste robe Non le so E infatti ora Ti ho chiesto dei comici Proprio per questo Cioè come mai Hai deciso poi Di esibirti sul palco Perché sentivi proprio L'esigenza Oppure hai visto Uno spettacolo Colpo di fulmine Devo farlo anch'io Perché ho visto Allora Da tanti anni Che volevo farlo Non avevo mai avuto Il coraggio Per vari miei paletti Che mi automettevo Io sono cintura nera Di autosabotaggio E Ok E praticamente Ho detto Ho visto Più di uno Di un Open mic Si chiamano così In gergo Dove ci sono Vari comici Professionisti E Mi sono innervosita Tantissimo Per Cosa dicevano Come lo dicevano Il tipo di battute Che portavano Mi sono Incazzata Forse è venuto Il tuo lavoro Di autrice Secondo me Ho detto Non basta Ma perché poi Dieci serate Facciano tutte Le stesse battute Non è che Se dici una roba Misogina O razzista Sei Sei simpatico Cioè dipende Come lo Devi dirlo In maniera intelligente Così non è intelligente E quindi Cioè tipo La cosa La battuta Tipo Barzelletta Che spari la bomba Solo per Dio Ho sparato la bomba Sono alternativo Ti fa vomitare Hai bisogno del contesto Della pancia Anch'io Sì sì Oppure È facile fare Una battuta sulle Scoreggia Cioè vedi Già fa ridere No Però Scoreggia Però Non puoi Dire solo Per sette minuti Scoreggia 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 O farle direttamente O farle Quello Stavo per dire Vedi T'ho trovato Il bug In questo ragionamento Però diciamo Che ho detto Cioè volevo farlo Da tanti anni Comunque scrivere È il mio lavoro Certo Quindi Avevo delle note Con appunti sparsi Per esempio Il primo pezzo L'ho fatto semplicemente Unendo tutte Tutte le cose Che avevo scritto E stare sul palco È difficile Ma imparerò Che devo fare Come sta andando Sta andando bene Mi hai detto che È un saliscendi Di emozioni A seconda del pubblico A seconda di Di che giornata è Di quello che becchi Come funziona Perché a me terrorizza Molto il palco Sì Io Non sono un comico Però Mi affascina tanto La comicità E i comici Io Come è stato Il tuo primo spettacolo Cioè la prima volta Che sali sul palco E ti tocca affrontare Una cosa nuova Di quel tipo Cioè come hai fatto Allora Io da quello che ho capito Vabbè lo faccio Da relativamente poco Ma dipende Tutto dal pubblico Cioè Se tu c'hai Un pezzo Lo stesso pezzo Lo fai davanti A un pubblico In un modo Magari si spaccano Da ridere Ti diverti anche tu Li vedi coinvolti Se lo fai davanti A un altro tipo di pubblico Può proprio non funzionare Poi Appunto Se non fai Delle battute sulle scoregge Che sono universali Ma magari cerchi Di trattare Dei temi Un po' più alti Ecco C'è quel rischio lì Però Bisogna essere costanti Bisogna provare Tanti palchi Tanti pubblici diversi Poi penso che Magari col passare Degli anni Ti fai il tuo pubblico O saprai già Dove andare E dove no Ecco Secondo me Può fare la fine Di quello che fai Con gli anziani Cioè Guardando gli occhi Del pubblico Guardando le facce O sentendo il mood Puoi far andare Allo spettacolo Un po' Dove vuoi andare te Magari Non dico che improvvisi Ma magari Metti una pezza Cambi Togli In diretta Celebramente Fai molto più veloce A ragionare su questo Certo Devi cambiare sempre Il pezzo In base al pubblico Che hai davanti Che ansia Ma come cazzo fai Ma infatti In cosa mi sono cacciata Eh sì E io non ce la farei mai Non so Ho avuto questa crisi Di mezza età Sì insomma In mezzo C'ho la mia stessa età Quindi C'ho i capelli bianchi Da quando ho aperto La partita IVA Un disastro Ah dice che è stata La partita in concorso Ma sicuro Sicuro Cioè Fino a 34 anni Niente Adesso Ma a te non rientri Nel forfettario No Quante euro Fino a 35 Sì sì Forfettario Ma che cazzo Perché parliamo Vabbè comunque Ora ci stiamo mettendo A fare i vecchi Veramente Noi Va bene ragazzi Se ci sono domande Fatemi sapere Perché è molto importante Bene ragazzi Io dico Quanti anni hai E voi mi dite Il limite di soldi Del forfettario Perfetto Proprio preciso Uno ha scritto 85k Lei ha 85 mila anni Volevi dire Il regime dei minimi Sì No Quello no Perché già facevo Questo lavoro In un'azienda Quello si chiama forfettario Ha cambiato nome No No Sono due cose diverse Oddio Credo che Il regime dei minimi Sia quando tu Apri la partita IVA E prima facevi Un'altra professione Quindi hai un regime Fiscale agevolato E il forfettario Dipende invece Da quanto fatturi Questa è una puntata Di finanza Oggi Siamo messi qua A parlare di questo Si sono stato Caccato in testa Malissimo Sulla finanza Ragazzi Ma io purtroppo Sia il forfettario Che il regime dei minimi Ragazzi L'ho abbandonato da tempo È finita la pacchia Anche per me E comunque Sia anche io L'ho beccati I capelli bianchi E vabbè Ma accetteremo Questa cosa Non si vedono Si ci sono due Qua Ma che stai 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 Perché c'è un gancio Per appoggiare le cuffie Te l'hai messa lì Ma se vuoi Sposta il gancio No va bene Va bene Come vive la sua sensibilità Come debolezza O come qualcosa Da accettare Perché hanno capito Che sei una persona Molto sensibile A quanto pare Che è vero Mi sembra Insomma Non sei così cinica Non sei cinica No Io sono molto riservata Sono molto chiusa La vivo così Cioè È una mia cosa Che magari Faccio vedere Soltanto alle persone Che ho molto vicine Però Tengo molto Alla mia privacy Sono molto riservata Mi spiace Non rispondo mai A DM Non rispondo quasi mai A DM Ma non perché Ma perché io sono proprio Abbastanza sociopatica Cioè faccio veramente Difficoltà Poi magari Se vi incontro Per strada Cioè Mi fermo A parlare Tutto quanto Ma non sono una Non rispondo manco ai messaggi Cioè Novanta messaggi non letti Cioè sono un disastro Però Come gestisco la mia sensibilità Piango spesso Così a caso Oppure Cioè Piango spesso Cioè sento Piango molto spesso Cioè sento una canzone Mi emoziono Piango E a volte mi provo Col pianto Apposta Sentendo delle canzoni Madonna Che mi ricordano delle cose Ma chi è che ha fatto Sta domanda Ma scusa Se vuoi ti do gli estremi Lo denunciamo subito Marisa Prendi nome e cognome No Infatti mi dicevi Che il tuo artista Agnese Che mia moglie Mi ha detto Che anche lei Fa così Quindi Confermo Che effettivamente Fa così Mi sta già simpatica Ti piacerebbe tantissimo Sono convinto Infatti mi ha detto Che uno dei tuoi artisti preferiti È Baglioni Che Ed effettivamente È il culmine Di questo Perché È anziano Che già Fa canzone Per un pubblico Di anziani E Gioca molto Su questa sensibilità Semplice Abbordabile Mamma mia C'ha quelle canzoni A parte che Avrei perso 6.000 persone Citando solo Baglioni su Twitch No 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 Lunedì vado al concerto Sono emozionatissima Sono emozionatissima Perché Mi piace tanto Perché mi fa piangere Mi ricorda delle cose E starò lì e piangerò Tutto il tempo Tutto il tempo Sì E le canterò Squarciagola Ma poi ti faccio sapere Che pubblico c'è Perché in realtà È il primo concerto Qui vado di Baglioni E voglio capire Che gente c'è Perché lui Devi sapere Che fa tantissime date E vanno subito Sold out Poi è fortissimo È fortissimo E ho pensato Ma chi cazzo è Che va al concerto Di Baglioni E lo scoprirò Vedi anche È anche curioso Scoprire È una cosa antropologica E io invece C'ho questa roba Con venditti Uguale Te lo dicevo prima Infatti Io per convincere Mi moglie Che in realtà Venditti è un grande Mi c'è voluto Un botto E ho detto Che prima o poi Voglio andare a Roma A vedere un concerto Di venditti Che sono Mi è un'emozione Fortissima Per forza Ecco qua Qui hai fatto un errore Vedi che non conosci Twitch Molto bene Perché? Hai sparato un per forza E ora la chat Per cinque minuti Esatto Che vuol dire? È un mio meme Terrificante E quindi Ed hai detto Proprio anche benissimo Con quell'intonazione Hai presente Ecco De Luigi C'era paura Hai citato Lucarelli È la stessa cosa Però con Non lo sapevo Non lo sapevo È tutto nuovo per me Comunque dai Non stai andando male No mi sto divertendo No meno male Meno male Ecco io non riesco A leggere le domande Vostre Per colpo della vostra Idiozia Vabbè Comunque Sti cazzi Io chiedo ai moderatori Credo che ci sia Free Di spostare le persone Nella stanza Così almeno Possiamo ascoltare I vostri interventi Quale stanza? È una stanza virtuale Di Discord Scherzavo Discord Ti piace come applicazione? Non la conosco È una applicazione Tipo Skype Tipo Ah ok Alla lontana Però si si fa quella roba Si chiacchiera Così con delle stanze No però Skype Ci entra poco 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 Oh ciao Mi sentite? Sì sì Ti sentiamo forte e chiaro Dici tutto Piacere Jacopo Allora avevo Qualche domanda Che mi ho preparato E poi ne avevo aggiunta Qualcuna Posto Ma comunque La prima domanda Essendo che Tu viaggi molto per l'Italia Comunque E vedi molte Sottoculture E anche culture Dell'Italia stessa Volevo sapere Quali tra queste Sagre Comunque feste e culture Ti aveva stupito di più E perché E Vabbè poi E basta Questo E il perché Di questo stupir Sì Sì E poi volevo capire Se esisteva veramente Questa differenza Tra il nord e il sud Riguardo magari All'ospitalità E all'accoglienza Essendo che Sui social Si continuano a vedere I video di Al sud Sul super accogliente Al nord Non c'è nessuno E' pieno di nebbia Quindi volevo un po' sapere Pieno di nebbia Allora La nebbia c'è Sicuramente Però Posso fare un esempio Con due Sono andata in due Sagre Cioè sono andata Alla mostra di bellezza Della vacca Bruna Perché tieni su Una cuffia? Perché mi fa strano Rimbomba Ah Ok Pensavo Volevi parlare a me Ma ti sento Ti sento Sì Quindi lì E' stato molto bello Ed ero in In Valtellina Sì E mi hanno trattato Molto bene E' vero Secondo me La gente è un po' più Diffidente Non so per motivi Forse culturali Non lo so Però comunque Sono stata Molto accolta E ho parlato Andatelo a vedere Quel video Secondo me E' molto bello Poi non sono brava A indicizzare i contenuti Ma lo trovate Cioè si chiama proprio Fiera della vacca Bruna E invece al sud Come Cioè come Vi dicevo Secondo me La sagra Della porchetta Di Campli E' stato Molto bello Perché C'era un paesino Di 5.000 anime Ma che era pienissimo Cioè sembrava il concerto Di Baglioni No Non di Baglioni Però Quindi Magari sì C'è un po' più Di diffidenza al nord Però io Mi sono stata accolta bene Sia al nord Che al sud In realtà Quindi grande differenza Non l'hai percepita No Ok Vabbè poi a Udine La festa degli alpini Sono stata accolta Proprio in modo Molto caloroso Non è ironico Ok Stavo cercando di capire Se eri ironico No no Ma anche lì infatti C'è Dipende sempre Cosa cerchi No Cioè se tu fai un video Fazioso Dove vai lì Gli fai un determinato Tipo di domande E' ovvio che ti risponderanno Quella cosa lì Però Il mio video E non era fazioso In senso opposto Io veramente Ho raccolto Quello che Le persone con cui ho parlato E Cioè Era una festa Con gente ubriaca Sì normale Sì Comunque persone di 60 anni Ma niente di trascendentale Ok Infatti c'è una domanda Di Joe Che dice Anch'io sono molto interessato Alle opinioni altrui Soprattutto quelle degli anziani Per la loro esperienza Ma ogni volta Mi viene da ribattere Se sono contro qualcosa Che dicono A te Chiara È mai capitato Di volerli smentire Eh Sì E poi le lasci ovviamente Queste cose nel video Oppure Le togli Allora Di solito Quando mi colgono Proprio nel vivo Sono cose gravi Cioè Sono cose O Razziste O omofobe O contro le donne O particolarmente Ottuse E io Come ti dicevo prima Nemmeno li monto Quei video Perché Sono dei messaggi Che non voglio Proprio che vengano diffusi Cioè Non voglio Che vada virale Il video In cui Il tizio dice La n-word Cioè Perché Capito E lì Sì Comunque Ce n'è uno Se vedete L'unico Che ho lasciato È stato Quello Quando sono andata Alla festa Della famiglia Festa internazionale Cioè Diciamo Appoggiata Da tutte le Associazioni Ultracattoliche E quello L'ho lasciato Anche per protesta Perché dai Era una pagliacciata Quella cosa lì su Diciamolo Appoggiata Dalle istituzioni Cioè Dai Va bene C'è altro Jacopone Sì Avevo altre due domande Vai 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 Tu fai Cabare Giusto Ecco Essendo che tu Intervisti Molti anziani Che hanno Idee Controverse Anche molti Ti è mai capitato Di usare Magari Delle loro Risposte Per Montare Su uno Spettacolo O comunque Per tra Ispirazione Da queste Risposte Ancora Non l'ho Ancora Non l'ho Fatto Però Penso Che lo farò In futuro Sì Adesso Sto Parlando Più Di temi Urgenti Tipo Che odio La gentia No scherzo 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 Quali sono i temi Che tratti In questo Spettacolo Che stai portando In giro Molte Tematiche Tipo Sulle lesbiche Parlo Molto spesso Delle lesbiche Perché È vero Ci sono anche Dei meme Che le lesbiche Sono invisibili Infatti Se vi chiedo Pensate Una lesbica Dichiarata in Italia Tutta la gente Va in confusione Perché effettivamente Non esistono E quindi Secondo me C'è anche figo Che vedi la tipa Sul locale Che ti parla di Questo argomento Che viene molto poco Trattato Secondo me Ok Oppure Mi sto preparando Mi sto preparando Uno un po' Sulla morte Sulla depressione Però sempre in chiave Diciamo Intelligente Poi ti inviterò Dario Vediamo se riderai Oppure no Va bene Io rido Veramente con Con poco Però insomma Ridere di gusto Mi capita raramente Ma rido Per ogni cazzata Mi piace ridere Parecchio Jacopone Vai Ma hai detto Ce n'avevi un'altra Verrà Toccherà Per forza Grande Jacopo Grazie Grazie Scusa Perché lei è così esortata Perché ha detto Per forza O in generale Perché mi sta simpatico Perché ha fatto Dieci domande E sono contenta Che ti sia interessata All'intervista Ma si Te l'ho detto Sono super carucci Che carini Mi fa piacere Allora Spulciando un po' Il tuo profilo Instagram Ok Ho trovato Questi post Che mi hanno Un po' lasciato Interdetto Diciamo In mezzo a Tutte le interviste Degli anziani Che sono Le recensioni Delle chiese Ecco No ecco Questa me l'ero persa Anch'io Bravo Jacopo E come le recensioni Delle chiese Perché fai Delle recensioni Delle chiese Tu ti metti lì Effettivamente Vai su Google Maps Chiese Chiese Sperdute Perché qui c'era Perché qui c'era Poco Dio Oppure Ho chiesto Quattro miracoli Nessuno si è Avverato Non fidatevi Oppure Preghievole Capito Invece di preghevole Preghievole Preghievole E allora ho detto No le raccolgo E le pubblico Quindi sì Adesso è un annetto Che faccio Questa raccolta E C'ho proprio Anche un filone Di fans Che Non me ne frega niente Le interviste Ti seguo solo Per le chiese Grande Cioè quindi Una nicchia Nella tua fanbase Che apprezza di più Le chiese Rispetto alle interviste Sì Per questo ti dicevo Che sono il profilo Meno appetibile Ai brand Perché Cioè Dai Un po' Ma non è vero Dai le chiese Ti aiuterò Io ti aiuterò Grazie Voglio aiutarti Dai Ce la facciamo Ce la facciamo Dai non è possibile Cioè Funzioni un botto Sai quanti cose puoi sponsorizzare Veramente Ascoltate Dario Moccia Per favore Io divido i brand Cioè i brand che mi adoro E i brand che mi vogliono Morto Quindi Non Cioè dipende Cioè perché c'ho un modo Di proporre Quello che mi Che mi fanno pubblicizzare Abbastanza particolare Proprio oggi ho avuto Un rifiuto tremendo Da un video Che secondo me era bellissimo Che metterò comunque Se me lo rifiutano Al cento per cento Ma me lo rifiuteranno sicuro Bene Jacopone Grazie mille Prego prego Ciao Ciao Jacopo Grazie Ciao 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 Nelle Marche Nelle Marche è mai stata Sono Marchigiano E non capisco perché Siano dimenticati da tutti Le Marche sono fantastiche Ma come dimenticati da tutti Guarda io sono Umbra Che dovrei dire Perché è dimenticata l'Umbria Madonna Cioè Confronto le Marche Sono La capitale D'Europa Sì sì L'Umbria è proprio Anzi Molto spesso Confondono Le Marche Con l'Umbria Cioè Tutti Molti pensano che Perugia Che è in Umbria Siano Sia nelle Marche Ok Comunque certo Che sono stata Nelle Marche Adesso ho l'Apsus Però sì È veramente Attaccata Alla Alla mia città Ecco Tra l'altro ragazzi Io sarò in Umbria domani All'Umbria Con la festa Del fumetto Tra l'altro mi avete Fatto Mi avete spaccato Il cazzo Con la solita battuta Tutti quanti Oh Dario Umbria con Buah ragazzi Complimentoni Che battutona Chi è questo stronzo qua Che parla Oh Dario Scusami Ho sbagliato Mi scuso Prima di partire con Le domande Perché mi costi su Instagram Ma chi sei? Sei il porchetto No ma perché C'ho un problema No no Dimmi Ma perché mi manderai Il di merda O i poster cazzo Cioè Dei senegalessi Cornasone Ma io non li voglio vedere Non me ne interessa Lì non peter cazzo Io poi rispondo alla gente Che mi contatta Per le cose serie Cioè comunque Semi serie Vabbè vai vai Dì Vabbè scusami Niente niente tesoro Saluto tutta la chat E soprattutto Chiara Ciao Allora partiamo con la Grazie Domanda Allora Sagra Preferita O quella che ti ha Che ti è piaciuta di più Che ti è divertito di più È quella della porchetta Voglio dire Essere definita Ah quella Deva gottato Sì Chiara Chiara Ferragni Delle Sagre Non è da tutti No Per niente Adesso farò Una cappella Anch'io Sulla beneficenza Per Per Del prosciutto cotto Che ne so No porchetta stessa È porchetta stessa Bene E anche Ho sparato un altro bel fuoco D'artificio Poi No no Ho fatto bene Su cazzo anche a me Sta roba Dimmi dimmi Grazie alle interviste Che hai fatto comunque Le persone anziane E Hai imparato effettivamente Qualcosa da loro Il tuo percorso Diciamo Ti ha Fatto crescere Ti ha Cambiato come persona Effettivamente Oppure No Io ci aggiungo Anche un altro pezzettino Perché un ragazzo In chat ha scritto Come siamo passati Dalla figura Dell'anziano saggio Al boomer Tutto Bella domanda Sai anche Una cosa che mi Spinge a fare questa cosa Visto che io Ormai l'avete capito Amo Adoro gli anziani È che mi stava Troppo Sulle palle Quando Le persone Spesso tendono a dire Ah che gente Di merda Oppure L'Italia Va Va a rotoli Perché I vecchi votano Perché siamo Un paese Vecchi Vecchi votano No Perché se voi guardate i dati Se voi guardate i dati Non è vera sta roba Perché Sono tanti giovani Anche che hanno votato E Non è colpa Degli anziani Ma Tra l'altro Io Quando faccio Delle cose Di politica Di politica Di buon senso Comunque Non trovo Dei trogloditi Anzi Negli anziani Trovo delle persone Molto Razionali E con buon senso Cioè Difficilmente Ho trovato Ho trovato Gente offensiva Ecco Veramente Molto difficile Comunque Sì Cioè Ne Ne Mi esco arricchita Perché Come dicevo prima È in contrasto Con tutte le notizie O con tutti i video Che ci propinano I social Che invece Ci mettono ansia Ci fanno arrabbiare Ecco Io quando parlo con loro Sono rilassata Ho intervistato Questa signora Marcella È quella bionda Che vedete Negli ultimi reel E a lei era un guru Era un genio Io stavo per piangere Mentre mi parlava Ne parlava proprio Con una tranquillità Proprio di una Che ci è passata E Poi Rischio anche Di diventare Morbosa In questi casi Perché io l'avrei abbracciata Ma comunque Ne strane Ha capito Però Sì Quasi con le racchime Agli occhi Le ho detto Grazie Marcella E lei se n'è andata Avrà detto Ma chi è sta pazza Però È sempre bello Sì Ok No Perché Effettivamente È un paese Sempre più vecchio Il nostro No Quindi Forse anche per quello Poi le Votano sempre più anziani Perché Ce n'è sempre di più E quindi è facile Poi fare di tutto In un buon fascio Anzi ci viene più Più facile Però effettivamente Ci sono tanti Giovani che hanno Posizioni abbastanza Retrograde Abbastanza vecchie Più dei vecchi stessi Sì Secondo me Lo sbaglio È sempre generalizzare In tutto E quindi Ma poverini Questi che si beccano Dei trogloditi Ma Ma state zitti Cioè Andiamo L'affanculo Tranquillamente Bene E poi Ah c'era un'altra domanda Non so se è altro da dire Sì Un'ultima domanda Vai Non so se è tanto Sì Prego Siamo in Dio boh In bollissima Dimmi C'è mai stata una sagra Sul nasone di Mare Storniolo? Vai Fa un culo Pezzo di merda Mi avete rotto tutti i coglioni La prossima volta Vi banno E non rientrate più In questa trasmissione Ciao Fatte un'affanculo Ciao Ciao Ecco Questo è il me Che hai visto nelle reaction Se l'hai notato Sì Hai notato che c'è un po' di differenza Mi hai detto Eh però ero ironico Contro Fois Ecco sì Ero ironico Anche contro questo ragazzo Che ha fatto una domanda Meme simpatica Che non c'entrava però nulla Ah ok È un tuo amico lui Ma chi cazzo se lo incula No ma quello che ha nominato Sì Ma Ma lui no Ah ok ok Devono mettere i meme Quando non c'entra una sega Io li uccido C'è una domanda interessante però Che ti vado a riflessare Se ti verrà mai voglia Di fare un video In un RSA Per capire come vivono Gli anziani In quella situazione lì Eh no Ok Perché L'RSA è un po' Estrema Diciamo Un po' Hard Non da quel punto Non lo so Volevo dirlo E guardarti negli occhi Ma non è Ora te mi hai preso Per un erotomane Cioè non è che voglio Che tu faccia La puntata sul stesso Per forza Va bene tutto Però era un suggerimento No Sono andata Infatti Non andate l'RSA Andate a Ai circoli Ricreativi Per anziani Ci sono dei circoli A Milano Dove Loro pagano Una retta Annuale Vanno lì Giocano a carte Tutto il pomeriggio Poi giocano a bocce E la sera Ballano E liscio Ed è molto figo Perché ho scoperto Che in questo modo Come se combattessero La solitudine Cioè hanno dei gruppi Molto affiatati Questi si vedono Tutti i giorni Fanno le stesse cose Ma almeno Stanno insieme E lì Sì Li ho Li ho intervistati Purtroppo Col fatto che Diciamo Le piattaforme Non premiano più I video lunghi E comunque Io faccio tutto da sola Giro da sola Monto da sola Cioè Fare un video Di dieci minuti Su youtube Ci metterei tanto E non percepisco Un soldo Da questa mia attività Ok Quindi ancora Non l'ho fatto Però sì In programma Sicuramente ho quello Di farne uno lungo In un circolo Ricreativo E adesso che l'ho detto Qualcuno mi ruberà l'idea Visto che Funziona così No non è detto Dato che l'hai detto Da me Forse è un po' più difficile Però Scusa Ti ho interrotto No no va Finito Finito Però mi hanno detto Una cosa molto vera Cioè potranno rubarti Le idee Perché è una cosa Che mi succede spesso Potranno rubarti Le idee Ma non potranno mai rubarti La tua identità E il tuo senso Dell'umorismo Bellissimo Vedi Questo è come Gambardella Di prima Esatto La cosa da riciclare Poi in altre situazioni E Free Entra pure se vuoi dire qualcosa Ci mancherebbe Prego Prego Sto già andando a girarlo Non credo Cosa Vabbè ma si fa entrare anche Inter Willy Ma poi Inter Willy È sempre lì È corsa a cappello Fuori ogni puntata Credo Volentieri il post A Free Wi-Fi Grazie Ma che cazzo è Ma vi mettete a battibeccare Fra di voi Ma scusa Quanta gente c'è dentro questa stanza Due persone Vediamo Allora Free Io ho due domande Siccome Allora mi sono collegato un po' tardi Quindi non so se hai già detto queste cose Però Ti faccio comunque le domande Allora La prima Siccome anch'io Amo gli anziani E amo Grande Ah ma veramente I miei nonni sono La mia ragione di vita Cioè probabilmente Quando moriranno Mi sguoziono Cioè insomma Probabilmente insomma Ti rimarrò molto male Ma Volevo sapere Alzati un po' Free Sei bassino eh Mi senti meglio? Eh se sei un po' Aumenta il gain O qualcosa del genere Dai ora Proviamo adesso Volevo sapere Te che rapporto hai O hai avuto Con i tuoi nonni Se sono magari state Un'ispirazione Per questa tua Passione Poi Per diciamo La La maggiore età E Se c'hai magari Qualche aneddoto Da raccontare O qualcosa Che riguarda magari appunto I tuoi parenti Più Anziani Allora Sono stati cruciali Nella mia educazione E Cioè ho vissuto con loro Proprio Tutta la vita Come se fossero stati Un po' I miei genitori Quindi Mi hanno insegnato Tutto quello che so E andavo alle sagre Con loro E c'era mio nonno Che adorava Ubriacarsi E poi Vabbè Vecchia famiglia Patriarcale Quindi la nonna Faceva Dai Mario Guido io Che hai bevuto troppo Lui fa No no Ce la faccio Ce la faccio Due volte Siamo finiti Nel fosso Però Bevete sempre Responsabilmente Certo Bellissimo messaggio Però Sì Cioè Diciamo che Poi Cosa curiosa Fun fact Mio nonno Era un ex balilla Ok E quindi La prima canzone Che io ho imparato È stata Lo posso dire Ma fai letti fare Che Sappiamo È stata Facetta Cioè Facetta nera raga E Ma Si finisce sempre lì Sempre Con il remix Di Capri Ponte Guarda Prima non ti scimetto Anche te Però Ecco Poi Meno male Crescendo Per fortuna Perché c'è chi anche Non cambia idea Per tutta la vita Insomma Sono andata a scuola Tutto quanto Mi sono slegata Dal nucleo familiare Mi sono fatta La mia identità E adesso ho cambiato idea Totalmente Eccetera eccetera Cosa che lui Non ha preso Manco Neanche bene Perché ha detto Sei una piccola Comunistella Ma nonostante ciò Per me Diciamo Il nonno e la nonna Viva i nonni E le nonne D'Italia Sì La cosa bella È che la chat Diceva Ah Free Ha fatto palesemente Una domanda Per farla piangere Siamo finiti a parlare Del duce Questa è una cosa Che fa abbastanza ridere Però Non è l'anno del duce Si spera di no Vabbè Poi volevo farti Un'altra domanda Importante Per me Perché Ci sto pensando Da In realtà Da un bel periodo Volevo Sapere Te hai mai fatto Volontariato Magari In case di riposo Perché Ecco Se c'è una cosa Che a me Nel mio immaginario Veramente Mi Mi distrugge È pensare Appunto Agli anziani Quando Vengono Un pochino Non abbandonati Però magari Non hanno la possibilità Di stare Magari In una famiglia Vengono Messe in queste case Di riposo È una cosa Veramente Che Cioè Poi io sono un po' così Mi emoziono facilmente Diciamo Tipo La mia parte Preferita Di Better Call Soul Non so se l'hai vista È proprio la parte Con gli anziani Nel senso La casa di riposo Bellissimo Better Call Soul è la mia serie Preferita Bellissimo Sì è venuta Venuta a fare Molto bene Piccolo spoiler Quando era girano La vecchia Io veramente Cioè piangevo Più che Quando uccidono Dei personaggi Principali Sì anch'io L'ho odiato Lì Esatto E volevo sapere Appunto Se te avevi mai fatto Volontariato E se sì Magari Avevi dei consigli Per chi Vorrebbe approcciarsi A questa cosa Allora Bellissima domanda Grazie Purtroppo Non Non l'ho mai fatto Perché Non ho avuto Tempo Sembrerà banale Ma veramente Da quando ho aperto La partita IVA Faccio più lavori insieme Più Più la stand up Più Comunque giro Monto i video Gli ultimi due anni Infatti mi sono venuti I capelli bianchi E sono esaurita Però È una cosa A cui sto Pensando E che ho pensato Secondo me È molto bello E è una cosa Che può aiutare loro Ma in qualche modo Anche noi Perché Comunque A me Come a te Penso Anche a Dario Cioè Stare con gli anziani È una cosa Che mi arricchisce sempre Poi certo Anche tra gli anziani Ci saranno Dei pezzi di merda Certo Però Ecco Sì È una cosa Che sicuramente Vorrò fare E poi Niente Informiamoci Ad Archie Khan Berlusconi Non ha fatto volontariato Berlusconi è stato Obbligato a fare volontariato Per una condanna Eh Ah vabbè I lavori I lavori Socialmente Sì Immagini Che Vabbè Comunque non so te Ma a me affascina Anche cercare di capire Perché un anziano È un pezzo di merda Cioè A volte Diciamo Nella vita Si cambia molto Arrivare magari A 80 90 anni Ed essere sempre Magari Incazzato Burbero Con il mondo Così A volte Mi affascina Anche cercare di capire Il perché Magari Quindi magari La storia Della persona Perché È rimasta Magari Su quelle idee Perché non si è evoluta Perché comunque Ci evolviamo spesso Tantissimo Quindi Nulla Io voglio collegare A questa cosa Ma se Vai vai Cioè Una cosa che mi hanno detto In più Che dicono tutti È Noi pensiamo Con l'età Si migliorano Non so Io pensavo Prima di fare le interviste Io pensavo Questa cosa Voi non sapete Quanti anziani Mi dicono No Si va sempre in peggio Si peggiora Cioè Si peggiora Quindi Volevo distruggervi Tutte le speranze Per il futuro Sì Io sono d'accordissimo Con te E tutti lo dicono Anche con una certa Fierezza Sì perché Allo stesso tempo Gli importa sempre di più Una sega Di quello che pensa la gente Quindi Immagina È uno che peggiora Di carattere E che si sente Anche in diritto Di farlo Perché è vecchio Non mi rompete i coglioni Sì è vero Hai un essere Demoniaco Un mostro Sai che una volta Sono andata in crociera Per lavoro Non andrei mai In crociera Per lavoro Dovevo fare un video Dove lavoravo Come autrice E lì È la Diciamo Il paradiso Degli anziani Eh certo E ci sono questi buffet A pranzo e cena Sempre aperti Illimitati Non avete idea Quanti anziani Arrivavano col vassoio E mi spintonavano Ma sono stata Maltrattata dagli anziani In crociera Perché Quello è il loro posto Loro sono legittimati A buttarti per terra Col vassoio Che vuoi E non devi metterti Tra loro il cibo Soprattutto Bene No Anche a me È capitata una roba di genere Ma più che altro I matrimoni Queste robe qua Ti spintonano Ti levano dai coglioni E loro hanno la precedenza Sì Sono anziani Grazie Fiff Entrai in tre wheelie Per il gran finale Vai C'è c'è Ci sono già Boh ma era già lì Dio buono a fare le poste Vai Hai notato che ho cambiato microfono Bravo Inter L'hai fatto per Radio Tomodachi Assolutamente sì Vai Raccontaci Però adesso Parlare dopo Free C'è come Non lo so Inter wheelie Vai Vai Va bene Allora Anche io condivido Una grandissima passione Per i mercati Per le sagre Per tutte queste cose qua Volevo sapere Visto che è in atto Un processo di gentrificazione I mercati stanno diventando Sempre più pettinati Fighetti E A livello sociale Anche Si sta perdendo Cioè i giovani Ma Anche diciamo Quelli un po' meno giovani I quarantenni Vanno meno spesso Al mercato Secondo te C'è il rischio Che a livello Di società Noi italiani Possiamo perdere qualcosa Questa è una domanda importante Lui fa sempre domande Da 45 minuti Quindi ritieni Ti fortunata Ok E Perdere qualcosa Per la gentrificazione O per gli anziani Che Sono anziani E quindi giovani Io ritengo Il mercato Come un luogo Di aggregazione Cioè non solo Si va a fare lì La spesa Ma ci si incontra Si parla Un luogo di civiltà Sì Dalla notte dei tempi Oggi invece Con la gentrificazione Quella tipologia di mercato Dove si buttano le cose Su dei tavolinetti Di plastiche Si vendono Le cose portate Da casa Nelle cassette rotte Eccetera Quella tradizione Un po' si sta perdendo A favore magari Di mercati Più pettinati Al chiuso Dove ti compri Il piatto pronto A 10 euro Ecco Io vorrei sapere Questo cambiamento A livello sociale A livello culturale Ci porterà A perdere qualcosa Ma sai che Cioè dalla mia esperienza Cioè forse I posti gentrificati Dove si mangia il piatto 10 euro Sono frequentati più Da giovani Perlomeno A Milano Che è la città Dove abito Da 8 anni E io in quei posti Manco ci entro proprio Neanche ci metto il piede Però se vai nei mercati Di quartiere Cioè che stanno lì Da 10 anni In realtà sono proprio Un punto di ritrovo Tra amici Che stanno lì Quindi Dipende Devi sceglierlo bene Ecco Perché se vai Per amici giovani O per amici vecchi Vecchi E perché i vecchi Moriranno un giorno Quindi Quello che dico È qui che volevi arrivare A questa cosa Hai capito No Se noi la facciamo vivere No Però Sì Il rischio c'è Secondo me Come Un po' anche Le sagre No Un po' lo stesso Principio Cioè Le sagre è Quando finirà Quella generazione lì Chi è che ballerà il liscio Chi è che andrà le sagre Boh Raga Comunque Metteranno la trap No La trap no La trap non la metto Vabbè Metteranno altre cose Metteranno Boh Annalisa Che già No Sì Annalisa Annalisa Con sotto la base Del liscio Magari Ma perché Te ti stai Sei abituata A vederla adesso Come il liscio Però quello Sarà il nuovo liscio Capito Cioè Annalisa Sarà la nuova Orietta Berti Per i vecchi Però Di quella generazione Però ci sono tanti giovani Anche che fanno L'orchestra adesso Che suonano La fisarmonica Cioè quindi Diciamo che non Sono tradizioni Abbandonate Dal 99% Della gente Però per esempio Ho intervistato Questo gruppo Folcloristico Che si chiamano I Matti De Montecò Ah per chi Mi ha chiesto Perché non viene mai Nelle Marche Che loro sono Di Montecosaro Sono un gruppo Folcloristico C'era questo Ragazzino Bambino Dieci anni Che era insieme Vestito in costume Insieme a questi signori E suonava La fisarmonica No? E io gli ho detto Scusa ma Perché non ti interessi Alla trap Provocandolo Chiaramente Fa A me piace Sta cosa qui Mi piace E voglio suonare La fisarmonica Quindi magari Ci sarà sempre qualcuno Nel gruppo Che magari porterà avanti Le tradizioni E me lo auguro E poi le saghe Per i comuni Per le province Sono anche fonte Di Fonte di introiti Di fondi Molto importante Quindi si spera E ricicla la junk E vabbè Questa è un'altra cosa Anche di evasione Perché fino a qualche tempo fa Non c'eravamo i post Però questi sono altri discorsi Ma sono i soli discorsi Che dovrebbero essere fatti Inter Siamo in chiusura Ti abbraccio Grazie come al solito E grazie a tutti gli altri Interventisti Ciao È stato un piacere Grazie No basta Fri Basta Siamo in chiusura Dai Veramente interessante Ciao Ciao Per forza Ah brava Che sei già entrata nel mood Brava Ciao C'è una puntata dai fuori Mamma mia ragazzi A volte veramente Vi ucciderei tutti Ciao ragazzi Ciao 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 Chiarona Grazie mille di essere stata Qui con noi È stato un piacerone Un'oretta e mezzo Meravigliosa E ti auguro In bocca al lupo per tutto Ci sentiamo Se ti posso dare una mano Te la darò assolutamente Perché mi fai troppo ride Sei bravissima Quindi In bocca al lupo davvero Crepi E nient'altro Grazie Grazie anche alla chat Grazie a te Grazie a te Grazie a te Ci vediamo ragazzi Fra un momento Tempo di portare E accompagnare L'ospite al driver Che l'accompagna all'hotel E poi E poi sono da voi Che parliamo di Lies of P Dato che l'ho finito Facciamo una nerd cultura Proprio su Lies of P Insieme a Marco Mottura Che ci aspetta Già su Streamyard A dopo ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti